Allora Gianni come va bene bene ma quant'è che stai così ci ha perdonato anche se ultimamente noto dei miglioramenti un biscottino no grazie signora è certo è lì basta che mangia basta che mangi il maiale no signora la violenza non è mai pagata mi scusi un momento di nervosismo ma Gianni non bevi allora io sono molto contento di essere qui oggi di fare la vostra conoscenza perché Mauro mi ha parlato tanto di voi so che un momento difficile però dato che Mauro un bravo ragazzo sono convinto che con l'aiuto del signore riusciremo a trovargli un bel lavoro ma signora ma signora ma signora no